L'intervento di cardiologia La cardiologia riabilitativa si esplica in forma degenziale di ricovero o in forma ambulatoriale ed è ampiamente documentato come transitare, passare in una cardiologia riabilitativa possa significativamente incrementare la sopravvivenza dei pazienti dopo sindrome coronarica. I dati recenti della letteratura attestano a una riduzione del 60% il rischio di mortalità di morte dopo un passaggio in cardiologia riabilitativa, dopo la dimissione da una struttura per acuti per un infarto del miocardio. Questo sensibile effetto di riduzione della mortalità che si accompagna a un ulteriore sensibile effetto di miglioramento della qualità di vita del paziente, di miglioramento del raggiungimento dei target di prevenzione secondaria, Il miglioramento della capacità funzionale, quindi della toleranza allo sforzo dei pazienti si realizza mediante un intervento multidisciplinare, un intervento multimodale che vede nel cardiologo il team leader in grado quindi di effettuare una reale stratificazione del rischio cardiovascolare residuo e di ridurre questo rischio mediante essenzialmente la moderna farmacoterapia. Il cardiologo non è l'unico attore principale nell'ambito di un team riabilitativo, essendo un intervento multidisciplinare è assolutamente importante che accanto allo specialista cardiologo lavorino delle altre figure professionali, essenzialmente l'infermiere, il fisioterapista per l'erogazione di un intervento di esercizio fisico strutturato mirato, il dietista e lo psicologo proprio per assicurare un intervento a 360 gradi non solo sullo stile di vita dei pazienti ma anche un intervento sull'intera situazione psicosociale. Sappiamo infatti anche come molte delle esigenze nell'ambito dello stile di vita siano state acquite dalla pandemia Covid con tutto quello che ne è derivato in termini di aumento della sedentarietà, riduzione di stili di vita favorevole in ottica cardiovascolare, quindi peggiore alimentazione, riduzione dell'attività fisica. Ecco, a tutto questo vuole rispondere un team di cardiologia riabilitativa che lavora sia a ridosso dell'acuto ma anche nel lungo periodo. Ci sarebbero molte cose da fare, innanzitutto massimizzare questi risultati passa dall'aumentare la popolazione riferita, a programmi di cardiologia riabilitativa. Sappiamo infatti che il cosiddetto referral, quindi l'invio di pazienti nelle strutture riabilitative è ancora limitato. Questo è un primo passo ma fondamentale perché è necessario che lo stesso cittadino consideri l'invio in una cardiologia riabilitativa dopo un evento maggiore come una sindrome coronarica come un proprio diritto, come una prestazione irrinunciabile che ha veramente l'obiettivo di migliorare la sua prognosi e la sua qualità di vita. Allo stesso tempo è necessario ovviamente aumentare l'offerta di percorsi riabilitativi, offerta che non deve essere eccessivamente statica ma deve essere assolutamente flessibile anche in una forma ibrida. Va molto di moda di questi tempi il termine di iFlex, cioè programmi che siano ibridi e flessibili, quindi che sappiano essere in parte erogate in regime ospedaliero ma anche aperti a contesti come quelli domiciliari ma soprattutto tarati sui specifici bisogni del paziente che possono essere di varia natura, di stabilizzazione clinica, di aumento della propria tolleranza allo sforzo, di supporto psicologico, di supporto nutrizionale, di bisogno di counseling a 360 gradi sui temi della prevenzione cardiovascolare.